Mio nonno fa un sacco di battute e mia nonna dice smettila, non dire così, tutto quello che dice mio nonno, mia nonna dice smettila, tipo una certa mi stava raccontando mio nonno di quando lui era andato in America e cosa aveva visto e mia nonna è tipo, ma non dire cosa hai fatto tu, lei è appena stato un mese falli raccontare a lei Scusa, è impazzito, è bevuto anche di là ragazzi Sì, sì, in bagno, quando c'è qualcuno sono andato lì, ho uscito un po' di vodka ma sono bevuta, con vets? Pazzo Sì, sì, sì No, come va Gaia? Stavi parlando dell'America, no? Il mio nonno però, sì Ho sentito America? Sì, perché mio nonno è stato in America e mi stava raccontando lui e mia nonna si è offesa perché diceva che dovevo raccontare io Ah, ok